ciao a tutti ragazzi eccomi tornato come al solito parliamo di liquidi ci allontaniamo un po' dai cremosi al limone che sono un po' il mio mondo incuriosito dal liquido che ha fatto parlare tanto di sé tutti ne hanno parlato benissimo quindi sapete che poi sono una persona curiosa e quindi l'ho voluto prendere e provare parlando del cinema by clouds of igarus dalla descrizione questo liquido doveva essere dico già doveva quindi la premessa fa capire il miglior popcorn una batch limitata 6 mesi a maturare in delle botti di non so che cosa di quale legno quindi comunque i liquidi al popcorn non mi dispiacciono affatto oddio mi piace lo steep hop di zè mi era piaciuto il poppy crunch non mi era piaciuto l'i love popcorn e che dire avete presente quando vedete un trailer di un film vi fate un'idea l'ho andata a vedere al cinema e poi è tutt'altro ovvero non c'entra niente con quello che avevate capito dal trailer cinema per l'appunto beh secondo me questo è questa cosa qua ovvero io il popcorn non ce lo sento fortunatamente adesso perché vi spiego è un po' complicato è un po' un film come si direbbe Roma che è un film nel senso che quando l'ho svapato i primi 3, 4, 5 ml mi ricordava tantissimo a primo impatto l'i love popcorn che a me non era piaciuto perché sapeva proprio del mais dolce avete presente quelle scatolette di latta col mais che si butta nell'insalata ogni tanto c'è una mappesca dai ragazzetti quindi comunque quel tipo di mais dolce che a me non fa impazzire si sta dentro l'insalata pure pure però ha mangiato così è molto dolce non mi fa impazzire nemmeno l'odore beh i primi 5 ml sapeva di quello quindi aveva avuto non soltanto di quello aveva avuto l'impressione che fosse un i love popcorn arricchito ora fortunatamente non so se perché sono un po' spefatto da questo liquido ma quel sentore lì è scomparso e ce ne sono tantissimi altri però questo secondo me ragazzi non è un liquido al popcorn come secondo me non lo era l'i love popcorn perché sapeva di mais dolce il popcorn invece è un'altra cosa è sempre il mais però il chicco secco che poi viene fatto scoppiare il tostato nella padella e scoppia ma sa di un'altra cosa il mais dolce cotto al vapore non c'entra assolutamente niente parlo di gusti all'olfatto ancora si sente un po' quel quel sentore appunto di mais dolce sembra veramente di aprire una scatoletta però poi dietro si percepisce o quantomeno io ci sento un vaniglione esagerato e un sentore di caramello quindi ce lo proviamo sul gun ne trippiamo un pochino so ragazzi nel senso a me non è che è dispiaciuto questo liquido però non c'entra niente con quello che dovrebbe essere secondo me non mi fa nemmeno impazzire come ha fatto impazzire tanti questo ci serve giusto ancora a sottolineare quanto il parere sui liquidi sia estremamente soggettivo cioè qui chiunque io ho sentito è impazzito per questo liquido a me non fa impazzire però riesco a svaparlo assolutamente soprattutto adesso ripeto che non sento più quel mais dolce forte all'impatto allora è scomparso ripeto e ribadisco quel sentore di mais dolce resta una vaniglia esagerata molto dolce questo senso di questa percezione vanigliata sembra una castarda classica molto molto carica ci sento un sentore di caramello in espirazione e poi ho quella non dico una sensazione lignosa ma in alcune sfumature mi ricorda per alcuni aspetti alla lontana ogni tanto in qualche tiro ho un vago ricordo del VCT non mi piace come il VCT però in qualche sentore lo ricorda quindi sostanzialmente che penso di questo liquido penso che sia un'ottima trovata di marketing però dire che questo è un popcorn io faccio veramente fatica perché secondo me non lo è questo qui è un liquido dolce un buon dolce a chi piace il dolce è un vaniglione addirittura ho sentito parlare di creme brulee probabilmente quel sentore di tostato del caramello probabilmente dello zucchero quasi bruciato sulla creme brulee potrebbe avere anche quel sentore in qualche tiro qua e là si potrebbe percepire però ragazzi dov'è il popcorn io mi chiedo nel senso che c'è questo vaniglione stracarico questo caramello alcuni sentori di tostato qua e là però il popcorn non c'è anche perché quel sentore iniziale di mais dolce secondo me che poi non capisco un cazzo non può essere definito popcorn il popcorn è un'altra cosa parliamo della stessa pianta soltanto che uno è cotto al vapore e il mais dolce l'altro è fatto seccare e poi tostato per tirar fuori il popcorn quindi sono comunque due cose diverse difatti non mi era piaciuto neanche il popcorn se è poi questo la differenza è che quello non sono proprio riuscito a svaparlo mentre questo dato che dopo qualche ml quella sensazione di mais dolce scompare riesco a svaparlo ma non pensando al popcorn penso a un vaniglione bello carico con delle note di caramello qualche sentore tostato quella e comunque lo svapo non è un liquido che ricomprerei però comunque si fa svapare un dolcione un buon dolcione ma secondo me questo non è un popcorn mi odierete perché in tantissimi lo amate ed è giusto che sia così nel senso che ancora di più ripeto e lo dirò sempre senza mai stancarmi che il parere sui liquidi è estremamente soggettivo questo a me non fa impazzire o quantomeno non posso classificarlo come un popcorn che dire altro fatemi sapere se qualcuno ha avuto le stesse mie impressioni nei commenti vi mando un saluto e un abbraccione a presto